Fabio Degano, direttore creativo della Wake Up Agency. Fabio, tra un po' interverrai alla convention, di che cosa parlerai? Fondamentalmente parlerò del ruolo della fotografia all'interno della comunicazione. Ascoltavo adesso chi mi sta precedendo nell'intervento, che più che altro è un artista dell'immagine. È un lusso che per certi aspetti la comunicazione, la pubblicità non può sempre permettersi, ovvero deve trasmettere un qualcosa di immediato che magari l'arte riesce a trasmettere con un maggior pensiero, una maggiore elaborazione di quella che è l'immagine stessa e del messaggio. È un qualcosa che però la comunicazione, la pubblicità lambisce, è un mondo che affascina, è un mondo che produce tante collaborazioni, tante piccole opere d'arte, diciamo, del mondo creativo. Un tuo pensiero su Revolution, che tra l'altro si tiene nella tua città? È una gran, gran bella mostra, una gran bella attività, un gran bell'evento, è bellissimo il concetto dei workshop, imparare realizzando e lavorando e conoscendo quelli che sono i vari artisti, penso che sia la cosa più bella. Mi meraviglio di come questo evento non sia stato pensato o realizzato anche prima, perché Barletta, così come tutta la Puglia e tutta l'Italia, è un po' un posto in fermento per quanto riguarda la creatività e le arti. Grazie Fabio. Figurati.